Un caso di febbre e addensamento polmonare. Il nostro soggetto è un uomo di 76 anni, ex fumatore, affetto da cardiopatia ipertensiva e ipertrofia prostatica benigna. Sottoposto a papillectomia vescicale nel 2013 e nel 2015, attualmente in follow up. A casa assume lisina acetilsalicilato, tamsulosina e ramipril. Il paziente accede in pronto soccorso per iperpiressia da 4 giorni, associata a tosse produttiva con escreato verdastro e dispnea ai minimi sforzi. Le condizioni generali sono assai scadenti. I familiari, infatti, riferiscono buone condizioni fino alla comparsa della sintomatologia, che ha causato l'accesso in pronto soccorso. All'esame obiettivo il paziente si presenta piretico, astenico, dispnoico. L'obiettività toracica è caratterizzata da un murmure vescicolare diffusamente ridotto con crepitibi basali. All'elettrocardiogramma si riscontra una fibrillazione atriale non databile. Gli esami ematici all'ingresso sono caratterizzati da una spiccata leucocitosi neutrofila, lieve ipopotassiemia-ipocalcemia, aumento della GOT, dell'LDH, aumento della proteina ciriattiva con una procalcitonina di 0,54, un porfilo elettroforetico come da flogosia specifica e un aumento del BNP. L'RX torace evidenzia un addensamento parenchimale tondeggiante a carattere di neoformazione del diametro di circa 5,5 cm che si proietta anteriormente al polmone di destra. Il paziente viene ricoverato. Il reparto presenta picchi febbrili con una temperatura massima di 38 gradi centigradi e un progressivo peggioramento degli scambi gassosi. Esegue quindi emoculture e un escreatocultura e viene richiesto un attacco toraceo con il mezzo di contrasto. In considerazione della compromissione del quadro clinico si imposta immediatamente una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro con ceftrexone, 2 grammi in vena, a cui si associa un diuretico in vena in considerazione del quadro di scompenso cardiaco associato all'infezione. I primi risultati arrivano dall'emocultura dove viene isolato un emofilus influenzae. L'antibiogramma mostra una positività, una sensibilità per l'antibiotico in atto. All'attacca si evidenza una vasta area di addensamento parenchimale delle dimensioni massime di circa 75 mm del segmento anteriore del lobo superiore di destra. Concomitano alcune lesioni nodulari delle dimensioni medie di circa 6 mm contenenti puntiformi calcificazioni, come da esiti. si osserva inoltre un lieve ingrandimento dei linfonodi, i lari di destra e prevascolari. La lesione al lobo superiore di destra si presenta contenente un'area ipodensa di circa 4 cm, come da contenuto necrotico. La conferma viene anche all'ecografia toracica, dove la lesione si presenta tondeggiante di aspetto sepimentato a contenuto corpuscolato e parete sottile, come da ascesso polmonare. E' possibile vedere in questa immagine il diverso aspetto radiologico della lesione. L'ascesso polmonare è una raccolta di materiale purulento all'interno di una cavità neoformata, originata dalla distruzione di parenchima polmonare. Nell'iter diagnostico è necessario per il paziente eseguire una fibrobroncoscopia, che a livello macroscopico evidenzia un diffuso e marcato quadro di broncopatia cronica epertrofica riacutizzata, con secrezioni sparse. Il broncolobare superiore destro e i suoi rami segmentari appaiono pervi e senza irregolarità focali. Una piccola irregolarità biancastra si localizza invece nel tratto terminale del bronco principale di sinistro. Durante l'esame viene eseguito un bronco aspirato, un brushing a livello del segmento apicale del broncolobare superiore di destra e la biopsia della piccola lesione terminale del bronco principale di sinistra. I risultati purtroppo non sono diagnostici. Il micropiologico sul bronco aspirato risulta negativo, negativo il citologico sul bronco aspirato e sul brushing, la biopsia bronchiale della piccola lesione del bronco principale di sinistra è negativa, così come negativo risulta il citologico sull'escreato raccolto dopo l'esame. Durante l'adegenza il paziente si presenta in condizioni cliniche nettamente migliorate, sfebbrato, con un miglioramento degli scambi gassosi. All'elettrocardiogramma osserviamo un ripristino del ritmo sinusale. Gli esami alla dimissione sono caratterizzati da una diminuzione della PCR, che tuttavia rimane elevata. Viene dimesso in data 30 agosto con una terapia antipertensiva che prevede l'aggiunta di un diuretico orale in considerazione del quadro di scompenso cardiaco e una terapia antibiotica con ciprofloxacina su antibiogramma al dosaggio di 500 mg due volte al giorno a lungo termine per almeno un mese, questo in considerazione delle caratteristiche dell'ascesso che è scarsamente vascularizzato e necessitano di una terapia antibiotica a lungo termine. Abbiamo eseguito inoltre dei markers neoplastici, dove vediamo un aumento del cifra, mentre gli altri markers del polmone e il PSA sono negativi, così come il CA19. Il paziente ora è migliorato, ma perché, visto che era in apparente buona salute, ha sviluppato un ascesso polmonare? Quali sono le cause di ascesso polmonare? La prima causa è l'inalazione di materiale dalle vie digerenti dal cavo orale in pazienti non coscienti, o perché sedati farmacologicamente o perché sotto sostanze stupefacenti. In questo caso, quindi, l'infezione è sostenuta da germi di natura anaerobica. Più raramente si osserva ascesso in corso di polmonite, da Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus piogenes, Hemophilus influenzae. Questi casi sono facilitati da stati di immunodeficienza, piuttosto che di immunocompromissione, piuttosto che di immunocompetenza. Anche l'ostruzione bronchiale può favorire l'insorgenza di ascessi, come neoplasie endobronchiali, ma anche masse con compressione abestrinseco, corpi estranei o linfadenopatie. Le neoplasie polmonari possono favorire la formazione di ascessi, soprattutto neoplasie di dimensioni notevoli, la cui zona centrale, che è scarsamente errorata, ma incontra anecrosi. Questa è una zona che facilmente si può sovrainfettare. Altre causi meno frequenti di ascesso sono l'infarto polmonare o un'estensione diretta di ascessi subfrenici, una diffusione per via ematogena di emboli settici. Rivediamo il paziente a distanza di una settimana. Si presenta in discrete condizioni generali. Ripetiamo l'ecografia toracica che evidenzia il persistere della lesione tondeggiante supleurica, sepimentata e corpuscolata, al lobo superiore di destra. Intenzionati a fare una diagnosi, eseguiamo un'agobiopsia ecoguidata della lesione, che finalmente permette di diagnosticare un carcinoma poco differenziato estesamente necrotico, probabile carcinoma squamocellulare. A questo punto dobbiamo studiare la patologia. La PET purtroppo evidenzia un'intensa ipercaptazione focale con un SUV massimo di 15, compatibile con neoplasia, in corrispondenza alla nota lesione, con un'area ipoattiva centrale come da necrosi. Esistono inoltre multiple captazioni linfonodali mediastiniche bilaterali con un SUV di 9,5 e addominali con un SUV massimo di 14,5 che si sviluppano lungo il decorso dei vasiliaci bilateralmente. Il caso del nostro paziente è il caso di un cancro ascesso, un ascesso cioè dovuto a una presenza di una neoplasia polmonare. Il trattamento degli ascessi prevede una terapia medica antibiotica su antibiogramma o in base al tipo di causa che ha determinato l'ascesso che deve essere necessariamente a lungo termine. Qualora la terapia antibiotica non fosse sufficiente nel caso soprattutto di cavitazioni è possibile anche instillare il farmaco per via endobronchiale. Il 90% dei casi di ascesso migliora con la terapia antibiotica. In alcuni casi tuttavia è necessario passare alla terapia chirurgica attraverso un drenaggio o addirittura un'exeresi quindi una lobectomia o una pneumonectomia. In generale sono pazienti assai defedati che necessitano di terapia di supporto. Il nostro paziente è tuttora in attesa di una visita di controllo post-TAC sta proseguendo la terapia antibiotica. Data l'età le comorbidità e purtroppo lo stadio avanzato della patologia non è candidabile a nessun tipo di intervento radicale o di radioterapia. Proseguirà sicuramente con terapia antibiotica di supporto e si valuterà insieme con il paziente e con i familiari l'eventuale somministrazione di monochemioterapia. Grazie per l'attenzione.